Il 2013 si è concluso con un tasso di disoccupazione giovanile in Italia pari al 41,6%. Ogni mese il nostro paese produce 57.000 nuovi disoccupati e ogni ora due aziende dichiarano fallimento. Nel 2013 ci sono stati 571 morti sul lavoro, il 29,9% degli italiani vive sotto la soglia di povertà, il 10% trova lavoro due mesi ogni 10. Questi sono i numeri. Dietro i numeri ci sono le persone, con le loro storie, le loro vite, le famiglie, i desideri e le aspirazioni. Farneto Teatro ha girato l'Italia raccogliendo queste storie, personali eppure così collettive. Da qui è nato uno spettacolo teatrale in cui diamo voce al mondo del lavoro e alle sue contraddizioni, al lavoro dei giovani, a quello delle donne, al lavoro che c'è, a quello che manca e a quello che non si vede, senza retorico, raccontando la realtà semplice e vera del lavoro oggi e condividendo e mettendo in circolo esperienze di identità e felicità spesso negate. Lo sguardo è quello di cui è capace il teatro, sulla persona che è il lavoratore e sulla capacità che ha il lavoro di mettere in relazione gli uomini. Le testimonianze raccolte sono molte e aumenteranno ancora durante il viaggio che lo spettacolo farà attraverso l'Italia. Buon lavoro è un'opera teatrale aperta, che si arricchirà continuamente delle voci che la compongono, modificandosi grazie all'incontro con gli spettatori e scegliendo di volta in volta le storie da raccontare. Seguici sul sito www.buonlavoroteatro.it e sulla pagina Facebook di Buon Lavoro. Scopri le prossime date dello spettacolo e se vuoi inviaci la tua storia. Buon lavoro! Buon lavoro!